Per la terza serie, alla 1 Valentina Bono, alla 2 Alice Civettini, alla 3 Ginevra Frediani, alla 4 Sofia Pialdini, alla 5 Giada Sartorato, alla 6 Valentina Giannini, alla 7 Linda Lorenzi, alla 8 Asia Nanni. Intanto la quinta serie se l'è aggiudicata Michela Chiavaro con 2.43.30 su Michela Vegetti, 2.46.96. Quindi ancora in zona premiazioni. Somma, Veltrame, Villani, Bruzzo, Sale, Dardi, Scatolini, Rizzolo, Siri per la categoria ragazzi. E per la categoria Junior, Menegaldo, Cobbita Rojas, Savani, Pignotti, Bellarmini, Benedini. E per gli assoluti, Longo, Luscri, Simonetti. Questi risultati, 200. Farfalla ragazzi, ricordiamo tutti visualizzabili in tempo reale sul portale natatoria.com, dove è disponibile anche la diretta streaming di questa undicesima edizione Trofeo Sogeis, qui all'Aquatic Center di Montichiari. Alice Mangiagalli, Tennis Club Schiera in conclusione della quarta serie. se la giudica l'ufficioso di 2.39.38 passa al comando della classifica provvisoria. grazie. grazie.